light drifting chiamata anche correntina dalle parti di fabrizio perché dalle mie no light drifting una tecnica di pesca entusiasmante soprattutto per quelli che magari non vanno tanto a largo e vogliono divertirsi comunque fabrizio ci sei sono pronto buongiorno a tutti ciao fabrizio oggi parliamo del light drifting ti sei preparato non ho studiato molto direndo affarato ma qualcosa ci inventeremo come sempre ok fai una presentazione spiega un po cos'è questo light drifting allora il light non è altro che una sorta di variante del volentino una pesca che noi spesso facciamo insieme al volentino oppure partiamo in bar che poi decidiamo quali fare in base alle situazioni andremo a vedere un pochettino come al solito le attrezzature tutte le i vari segreti e pasture e inneschi una pesca molto facile da preparare quindi non non ci saranno delle dei travi particolarmente complicati vedremo che ci sarà un po di difficoltà però poi nella ricerca dei pesci e nel posizionamento della pastura dell'esca rispetto alla pastura ma andiamo con ordine e iniziamo a vedere in questo in questa prima disegno vediamo tutte le parti di questo tipo di pesca canemolinelli ne parleremo come al solito più a fine a fine video iniziamo a vedere dal trecciato in poi noi solitamente utilizziamo dei trecciati abbastanza fini vedete uno 0 14 perché la cosa difficile della di questa pesca qui è far scendere l'esca fino a fondo premetto che questa pesca si può fare superficie a metà fondo è in prossimità del fondo io amo fare quella più vicino al fondo quindi dovrò far scendere la mia esca fino a 2 3 4 metri rispetto al fondo che è spesso volentieri può essere 40 50 anche 60 metri quindi ci vorrà del tempo per fare questo utilizziamo proprio dei trecciati abbastanza fini come vedete poi annodiamo il trecciato al solito pre terminale con il nodo fg che è il nodo migliore che si possa fare completamente invisibile poi un giorno faremo anche un magari un video proprio sul nodo fg perché è veramente un nodo che secondo me ha rivoluzionato i nodi in generale si no dopo le fg abbiamo a mettere solitamente un pre terminale io metto circa 5 6 metri però non è proprio una cosa vincolante quindi possiamo mettere un po di più un po di meno però abbiamo visto che con 5 6 metri riesci a fare perfettamente il lavoro si può mettere in questo caso io ho messo rigorosamente fluorocarbon però si potrebbe mettere anche nylon io non lo uso il nylon però si potrebbe anche mettere 6 metri vedete da un range dello 0 40 allo 0 50 rispetto a un volentino classico vedete che le gli spessori iniziano essere un po più importanti perché mentre col volentino classico noi facciamo una pesca rapida a pesci medi con il light rischiamo di far mangiare pesci anche molto grossi quindi tra vedere non vedere ci armiamo e teniamo dei fili un pochettino più più grossi anche perché diciamo il limite di questa pesca non esiste per farvi capire pescando in light c'è capitato che ci parte anche il tonno non è sicuramente un pesce che andiamo a cercare anzi sicuramente ci distruggerà l'attrezzatura però quando tu mandi vedremo un'esca come una sardina o come un calamaro in corrente diventa appetibile per qualsiasi pesce di qualsiasi dimensione sì e quindi cerchiamo di essere un pochettino più più strong soprattutto nelle nei finali volevo dare qualche informazione in più sul discorso nylon e fluorocarbon che penso sia interessante perché vedo che tanti nei commenti ci chiedono perché non non possiamo montare il nylon o cosa cambia le differenze beh io posso dirvi qual è la mia esperienza nel discorso del drifting al tonno innanzitutto il nylon rispetto al fluorocarbon e meno resistente alla abrasione e questo lo sappiamo lo sappiamo molto bene normalmente è più elastico quindi ha un coefficiente di allungamento più alto ma questo non vuol dire che il fluorocarbon non è elastico se voi provate un filo da 040 050 lo armate lo legate da qualche parte vi mettete a una distanza di 5 6 metri vedrete che avete più di mezzo metro di molla col fluorocarbon che è comunque più rigido del nylon ma una delle caratteristiche che io proprio non amo del nylon il motivo per cui io cerco proprio di non pescare con il nylon è che il nylon tende ad assorbire l'acqua quando siamo in acqua con del nylon per due tre quattro ore questo perderà fino anche il 30 per cento della sua portata il nylon è molto sensibile proprio all'acqua allora se io lo calo per poco tempo lo uso può anche funzionare bene ai limiti di carico quelli che sono indicati sulle confezioni più o meno se un nylon di qualità però se lo lascia in acqua per tanto tempo vedrò che questo carico di rottura diminuirà col tempo e questo è un problema assolutamente non da poco quindi anche per questo motivo io scelgo sempre di fare sia il shock leader che il terminale in fluorocarbon oltre per tutti gli altri motivi di cui vi ho già detto poco fa allora do altri due informazioni molto importanti perché perché io uso rigorosamente fluorocarbon uno l'hai detto tu l'abrasione io utilizzo poi vedrete anche delle canne molto light perché mi piace il divertimento questo cosa comporta che spesso e volentieri mi partono pesci molto grandi anche pesci da 5 6 7 8 chili è inevitabilmente con una canna molto molto leggera loro strisciano sul fondo quindi mi è capitato più e più volte di rompere proprio il pre terminale strisciato sulle pietre o addirittura qualche volta il trecciato quindi facendo questa pesca dove hai molti metri di di trecciato e fluorocarbon in acqua è molto facile che pesci grossi poi striscino sul fondo quindi già quello fluorocarbon con tutta la vita poi c'è un altro piccolo particolare andremo a vedere dopo la piombatura vedete che è un apparato pescante molto semplice con un piombo scorrevole al centro il problema è che mentre tutto questo apparato scende è molto facile che il piombo si attorcigli su se stesso o con gli ami quindi avendo il fluorocarbon un po grosso irrigidiamo un pochettino il tutto e magari ci evita qualche qualche nodo in più questa è una cosa che ho capito nel nel tempo in questo caso è molto meglio avere un apparato un po rigido che magari in altre pesche non è proprio il massimo ma nella pesca in light avere un apparato finale un po rigido è meglio perché già tanto l'esca si mette in corrente quindi diventa molto naturale quindi tutto ciò che viene prima non non ci cambia il il movimento dell'esca però ci aiuta perché rimanendo un po un po più rigido ci evita degli intrecci che vedrete il giorno che andrete a fare questa pesca ci fanno perdere un sacco di tempo perché noi molte volte non ci accorgiamo magari rimaniamo dieci minuti mezz'ora con l'esca in acqua e non abbiamo nessuna mangiata poi ritiriamo su e ci accorgiamo che il piombo si è attorcigliato a lamo e c'è stato tutto un griglio quindi io ti posso dire che succede anche di peggio cioè andiamo a pescare tutto il giorno come dici te è un certo punto parte un pesce magari una palamita non sto parlando di un pesce enorme e spezza immediatamente tutto questo perché perché se noi abbiamo il filo che si è intorcolato sul piombo con uno strappo da un pesce che sia un po più importante purtroppo qualsiasi filo noi andiamo usare comunque questo salta quando è annodato così tu poi hai scelto un pesce la palamita che è molto forte quindi c'è tutta la palamita e grotta o veramente fa veramente bello una guarda fabrizio è così bello poter scegliere il pesce almeno qui nei video perché quando sei in pesca purtroppo devi prendere quello che c'è ma almeno qui sui video quello che diamo lo bene il pesce no decisamente pesce scegli allora se scegli tu io io scelgo sempre guarda io quando vado a fare questa pesca il forse il pesce che preferisco è il pagro in assoluto è il pesce principe di questa pesca per me che pesco a fondo però anche quando vai a pescare a mezzo fondo e cerchi la palamita l'alletterato sono pesci che ti mettono a dura prova perché sono pesci molto combattivi poi magari non è un grande pesce a livello di soddisfazione però sicuramente a livello di di combattimento è un problema assolutamente allora finiamo un attimo questa montatura perché dopo vorrei parlare un attimo dell'assetto in pesca che secondo me è molto importante allora vedete che nel nel pre terminale noi mettiamo un piombo che è un piombo scorrevole scorrevole intercambiabile ve lo faccio vedere l'abbiamo già visto anche in qualche altra sessione questo è un piombo vedete questi due perni neri perfetto che nel nostro disegno sono gialli noi possiamo semplicemente vedete toglierli 12 io adesso l'ho messo duro perché non volevo che eccolo qua vedete io ho tolto il piombo senza tagliare senza fare nessuna e mi rimangono questi due pernetti io in questo caso avevo messo un piombo da 10 grammi vi faccio vedere questa è la mia scatoletta dei piombi e questi piombi partono io ci ho dai due grammi fino ai 50 grammi quindi io posso semplicemente staccando i pernetti mettere un altro piombo è variare continuamente la piombatura che vedremo più avanti è la cosa fondamentale è anche la cosa più difficile perché per poi mandare adesso questi sono quelli più piccoli da questa parte chiudo perché sono faccio un disastro eccoli qua la cosa importante è riuscire a mandare il nostro piombo quindi la nostra esca in corrente è questo noi possiamo farlo proprio con questi tipi di piombi ok poi dopo lo vediamo nello specifico comunque andando avanti comunque il piombo diciamo fondamentale che sia messo sul pre terminale non sul terminale sempre e non sempre sul pre terminale con un amo solo poi dopo vedremo che c'è anche un trave particolare fatto con due ami dove io vado a mettere il piombo scorrevole fra i due ami ma fondamentalmente non cambia granché poi lo vedremo più avanti poi mettiamo la solita girella a tre bari lotti eccola qua se la ingrandisci eccola qua vedete bene e poi andiamo a mettere il nostro in questo caso l'ho fatto più corto per farlo vedere il nostro finale vero e proprio sempre in fluorocarbon che va dal 30 al 40 ok di circa un metro e mezzo con il nostro 51 80 in questo caso se non ricordo male di taglia 1 ma poi vedremo che in base al tipo di esca che noi andiamo a mettere nel light possiamo usare il l'1 10 il 20 ok perché in questa pesca normalmente l'esca deve essere bella abbondante perché si si va sempre a cercare possibilmente pesci importanti bene questo diciamo che a grandi linee l'apparato pescante dell'high drifting o correntina come la come la si chiama qui da noi in sardegna che è una pesca che esiste da sempre io me la ricordo da quando ero bambino si parlava di questa correntina correntina ora è più bello chiamarla light drifting è sicuramente più io l'ho fatta io l'ho fatta per diversi anni parecchi anni fa proprio nell'isola di lussino andavamo a palamite proprio con la sarda con l'innesco particolare della sarda innescata con la con l'ago e con un pezzettino di multifibre anche su l'amo perché se no avevamo il problema che con i denti la palamita molto spesso spezzava i terminali anche perché con quei pesci lì non puoi andare troppo spesso e 0 30 te lo dimentichi alla fine cioè non ce la fai proprio perché lo vede e non mangia la misura massima a cui potevamo ambire era un 0 25 0 24 ed eravamo già al limite lì quindi canne molto lunghe molto sensibili e utilizzavamo un pezzettino di dacron di dacron lungo 10 15 centimetri che andava a finire all'interno della sarda e nel momento in cui il pesce mangiava si apriva i denti andavano sul dacron e risolvevamo il problema dopo anche più o meno come veniva fatta questo questo tipo particolare di montatura proprio fatto appositamente per le palamite che tra l'altro noi le pescavamo in free line nel senso senza nessun tipo di piombo perché l'esca doveva andare esattamente con quel poco 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 di corrente insieme con le sarde che usavamo come pastura ma infatti adesso vorrei parlare un attimo con te dell'assetto in pesca perché è fondamentale abbiamo visto i piombi abbiamo visto piombi anche parecchio pesanti so che tu peschi molto vicino al fondo però io vorrei adesso capire qual è la velocità di scaroccio di deriva della barca perché questo tipo di pesca non si può fare per esempio se non c'è proprio nulla di corrente non c'è un po di vento e allora mettiamo mettiamo la prima la prima regola allora io questa pesca la faccio esclusivamente ancorato per me questa pesca non esiste fatta senza ancora la fanno molte persone la fanno viene chiamata perché in realtà la parola drifting drifting a per drift che vuol dire driftare cioè vuol dire fare andare la barca con il vento e come il drifting al tonno in teoria da termine proprio dal nome non dovrebbe essere assolutamente la barca è orata però la realtà che tu mi insegni che il tonno si fa ad ancorato come a scarroccio in questo caso secondo donno si fa come lo vuoi come vuoi farlo io ti posso dire che tutte le competizioni sempre drifting e lo chiamiamo in questo caso secondo me aspetta è diverso in croazia tutte le competizioni di drifting al tonno non ci si può ancorare cioè la barca deve rimanere in drift l'unica cosa che puoi fare è aggiungere un ancora galleggiante se vuoi ma non puoi assolutamente usare un ancora vera fisica e appoggiarla al fondo e vietato perché si tratta di drifting però questa insomma sono delle sottigliezze che sono dettagli io questa pesca la faccio rigorosamente ancorato per un motivo perché io vado lì e pasturo e pasturo tanto se lo devo fare continuamente in movimento dovrei portare montagne di pastura e non ripasserei praticamente quasi mai nello stesso posto perché tu mi insegni che ripassare sempre nostro posto è molto difficile sin quando vai a pescare tonni passi a 5 10 metri dalla passata precedente non ti cambia al tonno un pesce veloce che cammina si muove tu gli lasci una pastura lui gironzola lì sui pesci di fondo questo non succede cioè se io pasturo in un punto lui si mette lì e da lì non si muove quindi questa pesca personalmente io la faccio ancorato me l'hanno fatta fare anche a scarroccio ma non mi piace una pesca che non mi appartiene quindi quello che io vi andrò a raccontare è tutta una questione di una pesca ancorata è quello che noi invece di andare noi in corrente siamo noi che facciamo andare la nostra esca in corrente e da lì nasce il nome correntina quindi inizia a inizia a quadrare tutto quindi è la nostra esca che andrà in corrente però avremo lo stesso problema di assetto che quando siamo in il movimento non cambia perché in questa pesca la cosa più difficile in assoluto è trovare l'assetto giusto quindi trovare la piombatura giusta che ti permetta di far scendere la tua esca in modo naturale e di farla arrivare ecco qui vedete per esempio in questo disegno vedete tutti questi pallini rossi sono dei pezzi di sarda quindi si può pasturare anche come la classica pesca al tonno quindi con dei tocchi di sarda e noi andiamo a creare un fiume di pastura in base alla corrente ok vedete che poi alla fine io la mando sempre sul fondo tendo a mandarla più sul fondo e pesci si posizioneranno in quel punto quello che diventa poi difficile è mandare esattamente il nostro la nostra esca dove dove noi abbiamo posizionato i pesci perché se noi utilizziamo un piombo troppo pesante andrà a scendere molto prima se noi utilizziamo un piombo troppo leggero camminerà e sorpasserà i pesci è praticamente la cattura sarà pari a zero fin quando noi non riusciremo a trovare il punto giusto a quel punto se stiamo facendo tutto perfetto diventa praticamente una pesca semplicissima ricordatevi sempre che la corrente durante la giornata può variare quindi se per 123 ore il mio piombo perfetto era il 5 grammi magari dopo due ore quel piombo non va più bene perché la corrente cambia e quindi io dovrò o diminuire o aumentare il piombo questa è la cosa più difficile di questa pesca perché tu non vedi queste cose qua quindi le devi captare cosa succedeva parliamo di tanti anni fa noi andavamo a pescare con i classici nylon oppure con i primi trecciati quindi facevamo scendere giù il filo il pesce mangiava però noi non riuscivamo a capire qual era l'altezza giusta quindi cosa facevamo o ci portavamo un pennarello e segnavamo proprio il il metraggio giusto da mandare sul fondo oppure doveva mandare ogni volta a legare un piccolo elastico un piccolo fiocchettino per ricordarci dove dovevamo fermare diciamo il nostro filo perché una volta che tu hai trovato all'altezza quella deve rimanere oggi questo problema l'abbiamo risolto con i multicolor questo il nostro phantom 014 multicolor che cambia colori ogni 10 metri quindi io faccio scendere metro dopo metro fai quanto che più o meno a 60 metri dove mi piace pescare io dovrò far scendere in base alla in base alla corrente qui 70 80 metri e questo mi viene facile perché io i colori quindi se mi accorgo che i pesci mangeranno al settimo colore ottavo colore rosso per me sarà facile io arriverò al rosso e mi fermerò poi dobbiamo capire se è inizio rosso fine rosso perché in un in unico colore ci sono 10 metri quindi 10 metri possono fare la differenza però se tu sai che al rosso ti mangiano devi fare un ragionamento solo di 10 metri prima invece diventava molto molto più complesso. allora qua invece stiamo facendo vedere un altro tipo di pastura questa non è più una pastura a tocchi di sarde ma stiamo utilizzando la pastura fish on road mezzo fondo la rossa vedete che io lancio delle pallette che piano piano andranno appoggiarsi sul fondo però se voi vedete tutti questi piccoli puntini rossi quelli sono le scie che la pastura a mezzo fondo lascia scendendo questa pastura è fatta proprio per questo perché mentre scende rilascia altri piccoli pezzi di pastura e quindi mi pasturerà sia a fondo sia a qualche metro più in superficie ve la facciamo vedere questa è la mezzo fondo ecco la mezzo fondo rossa la utilizziamo rossa perché è ancora più vistosa e quindi oltre a una scia odorosa lascia anche una scia colorata che in questa pecca male su questa pastura posso dire qualcosa anch'io visto che l'abbiamo diciamo ideata un po insieme io andrea passini innanzitutto la qualità di questa pastura che è incredibile non ha niente a che vedere rispetto alla classica sarda trita è una pastura che non puzza questa profuma è una pastura ed è una pastura strutturata in due cose la prima è la chimica cioè quello che c'è all'interno che a base di sarda purissima non congelata ma trattata direttamente fresca addizionata da di sale ma non solo sale ci sono esaltatori di sapore c'è una piccola parte di ferromoni tutta una serie di cose che la rendono molto più appetibile dopo c'è un collante all'interno e c'è anche una parte pesante e tutta questa cosa qui riguarda la meccanica di questa pastura questa pastura la potete anche comprimere sul piombo e questa rimarrà attaccata al piombo non si sfalderà e quindi avrete la pastura proprio vicina anche all'esca dove andate a pescare e adesso vi mostro un piccolo video per farvi vedere come cade sotto la barca quando usate questa pastura come vedete è una situazione completamente diversa rispetto il classico trita sarde con la sarda fresca che devo dire che anche quello è un ottimo sistema soprattutto se stiamo pescando in light drifting a pesce in mezz'acqua o superficie chiaramente se vogliamo andare a pescare a fondo come fa fabrizio bisogna avere una pastura più specifica o trovare il modo di portare la pastura giù un buon sistema è usare le sarde tagliate a pezzi però anche lì se non c'è troppo pesce rischiate di saturare quella parte di mare far mangiare troppo gli altri pesci che dopo non verranno più sulla vostra esca quindi io consiglio sempre di avere un equilibrio e concentrarsi magari su un determinato tipo di target e selezionare quindi la pastura e le esche per quel tipo di target se noi vogliamo pescare i pagri come fa fabrizio sul fondo cerchiamo di andare a concentrare la pastura in quella zona possiamo usare anche un pasturatore della stonfo va anche bene però l'unico problema è che il light drifting per il mio modo di vedere deve essere sempre fatto una certa distanza della barca e non proprio sotto la barca se noi usiamo per esempio il pasturatore della stonfo andremo a creare una zona molto pasturata proprio sotto la barca e quello a quel punto diventa quasi un bollentino cosa che invece noi non vogliamo vogliamo far lavorare l'esca in corrente quindi dobbiamo utilizzare una pastura che in qualche modo segue la nostra lenza e ci permette di andare un po più lontano a proposito di quello che stavi dicendo tu la problematica fondamentalmente di questa pesca sono le condizioni meteo cioè noi quando usciamo a fare questa pesca qui solitamente ci portiamo anche una pesca alternativa per quale motivo l'unico limite della correntina è proprio la situazione corrente cioè se noi arriviamo nel punto di pesca ci ancoriamo iniziamo a pasturare ci accorgiamo che la corrente è pari a zero noi questa pesca non la potremmo fare come detto tu non ha un senso a pasturare sul fondo perché poi la nostra esca non si mette in corrente quindi non diventa più una correntina ma diventa un bollentino fatto male e a quel punto preferiamo fare volentino vera proprio un altro problema è quando c'è troppa corrente troppa corrente diventa impossibile pasturare e diventa molto difficile per noi andare a mettere le esche in in pesca quindi questo questo tipo di pesca qui purtroppo è legato alle condizioni quindi noi dovremmo avere una una corrente leggera media e allora magari riusciremo a pescare altrimenti forse è meglio farne un'altra quindi difficilmente andiamo in mare solo per fare questo tipo di pesca perché ogni tanto si capita ma bisogna stare molto attenti qui bisogna stare molto attenti alle maree soprattutto almeno per quello che riguarda l'adriatico noi sappiamo già che quando abbiamo delle maree importanti e non siamo al culmine o alla bassa e in quel caso abbiamo un po di corrente quindi riusciamo a fare questo tipo di pesca io per dire il vero a differenza di fabrizio tante volte ho pescato anche lo scarroccio quando le condizioni me lo permettono questo vuol dire che la barca deve comunque rimanere sui 0 2 0 3 massimo di velocità rispetto al fondo e uso una pasturazione abbastanza leggera non vado a insistere troppo però in questo modo sono riuscito a portarmi dietro dei pesci che dopo alla fine hanno anche abboccato perché la tecnica è praticamente molto simile a quella del tonno dirò di più è successo più di una volta che pescando i tonni in drifting abbiamo allamato sui terminali dei tonni passando magari vicino delle secche anche i corazzieri o identici e anche animali abbastanza grandi parliamo di cose anche di 6 7 chili proprio perché seguivano la scia di trito di sarda o pezzi di sarda trovavano le esche che erano dedicate comunque al tonno comunque vi posso assicurare che anche il dentice non disdegna la sarda e soprattutto è capacissimo di salire in quota anche se il fondo era 60 metri ed io stavamo pescando intorno ai 40 se il dentice trova la scia di sarde non ci sono problemi a risalire 20 metri per andarsi a prendere i pezzi di sarda che che vuole mangiare allora davide adesso facciamo vedere due travi abbastanza semplici che utilizziamo per questa pesca qua ecco qui adesso noi vediamo il primo è più o meno anzi esattamente quello che io vi ho fatto vedere in apertura quindi piombo scorrevole girella tripla un terminale di un metro e mezzo di 0 30 barra 0 40 poi quello andiamo a vederlo in base alle giornate cioè iniziamo sempre con dei fili un po più leggeri e poi man mano cerchiamo di salire per vedere se continuano a mangiare è anche vero che molte volte i pesci più di un certo spessore poi non vanno a mangiare a differenza della pesca che fa davide quindi più in superficie in profondità i pesci sono un po meno schizzinosi cioè vedono un po meno probabilmente per una questione di luce mentre quando vai in superficie sei costretto a usare proprio fili finissimi in profondità ogni tanto siamo riusciti a farli mangiare anche con lo 0 40 è anche vero che quando ti partono pesci da 5 6 7 8 chili con lo 0 40 che strisciano sulle pietre se stai comunque pescando sulle uova quindi è comunque una pesca molto tecnica e molto sportiva a discapito del 40 che è un filo grosso ma davanti a una pietra si rompe all'istante quindi vedrete che il divertimento in questa pesca è assicurato e la soddisfazione di prendere dei pesci importanti dal mio punto di vista è molto superiore a una traina a una pesca con fili molto più grossi adesso passiamo al secondo disegno e vedete qua invece un trave con due ami qual è la differenza la differenza è pre terminale girella tripla poi vedete che in questo caso io ho fatto un altro piccolo pre terminale dove ci saranno i due ami e il mio piombo scorrevole camminerà da un amo all'altro il primo amo viene montato in questo caso come un classico amo da volentino quindi con delle perline incollate e poi quattro fuori della stonfo di taglia grande però importante mettiamo anche lì un terminale un bracciolo di tre da 0 30 0 40 e gli ami vedete io ho messo dal 2 al 2 0 quello poi andiamo a vedere in base alle esche che andiamo a utilizzare solitamente quando utilizzo il bracciolo a due ami tendo a usare esche magari un po più piccole magari dei tocchi di sardina o dei gambe o dei calamari piccoli oppure dei dei pezzi di calamaro mentre quando invece vado a pescare con un amo normalmente utilizzo delle che è molto più voluminose quindi è proprio una scelta in base un pochettino ai tipi di pesci che ci sono quando ci sono le tanute che è un pesce che solitamente peschi molto in light e normalmente come sulle tanute peschi quelle più grosse quelle che magari a volentino tendono a essere un pochettino più diffidenti con light invece si buttano direttamente sull'esca e quando ci sono tante tanute utilizzo magari l'apparatura a due ami se invece voglio voglio fare un po di selezione cercare qualche pesce grosso spesso e volentieri tendo a usare un ammo solo un'esca molto più più voluminosa vedete che i travi in questa pesca sono molto elementari non ci sono grandi grandi scienze adesso possiamo passare ancora avanti andare a vedere un pochettino di esche e inneschi ecco qui nella prima nel primo disegno noi vediamo un classico calamaro battuto ovviamente si fanno delle strisce di calamaro battuto molto molto generose molto grandi perché se vogliamo insediare dei pesci importanti la striscia deve essere bella bella grande perché altrimenti qualsiasi micro pesce potrà mangiarci l'esca invece noi dobbiamo dare proprio il tempo ai pesci più grossi di arrivare e questo lo facciamo solo con esche un po dure e voluminose nella seconda nella secondo disegno invece io qui innesco dei micro calamaretti non sono facilissimi da da trovare solitamente li trovo nei negozi surgelati blocchetti del genere da da un chilo e sono proprio questi micro calamaretti che sono uno spettacolo perché tu riesci senza doverli legare a mettere tutti interi e questa esca qui mi ha permesso di fare veramente delle grandissime pescate sulla tanuta e micidiale perché lei in un colpo solo se lo ingoia tutto ma ci ho preso anche pesci molto grandi terza e ultima esca che utilizzo è la sarda che in questo caso vedete è un classico filetto di sarda che noi possiamo fare proprio sfilettata oppure possiamo fare anche intero e in questo caso abbiamo anche un altro disegno che che ci fa vedere come io vado un po a trattare la sarda eccola qui abbiamo una sarda intera ok la prima cosa che io faccio è taglio la testa per per far sanguinare l'esca taglio la coda proprio la parte finale perché la coda tende a farmi girare l'esca in discesa poi vedete vado a fare un taglio verticale su tutta la su tutta la sarda e lì andrò a infilarci il nylon col mio amo e poi con l'aiuto di un ago lo vedete qua un ago normalissimo non lo uso come ago l'uso semplicemente come scheletro quindi appoggerò la mia sardina sul sul lago col filo elastico andremo a girare la sardina molto velocemente fa il nodo chiudi sfili e noi avremo la nostra sardina pronta poi qua ci sono mille modi per farla io solitamente la tengo intera quindi con la lisca e tutto perché questo mi permette di tenere l'esca più rigida e dura molti preferiscono invece pescare col col filetto di sarda però filetto di sarda si diciamo che se ci sono pesci piccoli lo distruggono più facilmente però è molto attirante anche quello poi ci sono mille varianti di un eschi altri tipi di esche in questa pesca difficilmente li utilizzo anche se poi si potrebbe usare anche il gambero però normalmente nell'utilizzo anche per una questione economica perché andare a innescare a gamberi diventa complicato se ci sono tanti pesci quindi la la sarda che normalmente è l'esca con cui tu vai anche a pasturare funziona molto bene è una delle migliori sì poi se tu stai pasturando a sarda è molto più semplice per lui andare a mangiare la una logica e non andare a mangiare perché il pesce normalmente si abitua un'esca e tende a mangiarsi quella se tu gliela cambi di continuo potrebbe rimanere sospettoso anche se ho notato che pasturando a sarda e mettendoci il calamaro lui comunque se lo mangia senza grandi problemi allora andiamo se nello specifico adesso vi faccio vedere qualche attrezzatura la io personalmente utilizzo delle canne super 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 light ma sono consapevole che è una mezza una mezza follia perché con quel tipo di attrezzatura tanti pesci grossi li perdi io ne utilizzo perché ho proprio il piacere di pescare pesci importanti con attrezzature super super light però in questo caso non mi sento di farvi vedere questo tipo di attrezzatura perché soprattutto all'inizio sarebbe un disastro già per me è complicato perdo tantissimi pesci ma è giusto per un discorso di avere il gusto di prendere quel tipo di pesce la con quella canna invece vi faccio vedere delle canne un po più specifiche con cui riuscirete sicuramente a portare a termine molte più catture allora partiamo con una canna che a me piace molto la hercules della della falcon questa è una canna molto bella a parte che la potete usare anche per un classico volentino la potete usare anche col volentino col vivo però per la correntina è ottima è ottima perché vi faccio vedere lei è a due cime quindi a proprio due cime completamente diverse una questa verde più morbida quella rossa invece un pochettino piuttosto quindi in base ai pesci che voi state pescando potete usare una cima o un'altra se state pescando tanute pesci minori vi consiglio la verde perché è veramente divertente se invece vi accorgete che ci sono pesci importanti oppure state mirando solo a quelli la cima rossa è decisamente più tosta e vi aiuterà sicuramente a staccare molto più velocemente il pesce grosso dal fondo perché questo quello diventa il nostro grosso problema poi matti come me preferiscono pescarli con con la fine per una questione di soddisfazione però anche vero che ho tantissime rotture facendo questa questa forzatura quindi questa è una canna molto 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 bella che non ha neanche di dare un qualche dato in più di lunghezza sì scusatemi allora in questo caso io vi sto facendo vedere la 2 metri e 70 però si può usare tranquillamente anche la 3 metri quello poi è una questione che dipende da se ti piace avere più la canna un po più corto più lunga io mi trovo bene sia con la 2 70 che con la 3 metri quindi non è un gran problema sono canne che tengono anche tantissimo piombo se vai a pescare a volentino però in questo caso della correntina abbiamo visto che il massimo che noi usiamo è 50 grammi ma 50 grammi un peso esagerato io lo uso quando c'è corrente fortissima oppure l'ho usato andando a pescare a 80 100 l'ho fatto anche a 120 130 metri tutta pesca normalmente fate conto che in una situazione di corrente giusta se si pesca dai 3 grammi agli 8 grammi 8 10 grammi questo secondo me è il range dove tu stai facendo la pesca in light perfetta poi se devi andare più in basso vuol dire che c'è veramente pochissima corrente se devi andare oltre vuol dire che inizia esserci una condizione un po difficile però ripeto fino a 50 grammi si può tranquillamente pescare oltre diventa difficile l'abbiamo fatta anche con 80 100 120 grammi 150 sono in quei casi in cui tu stai pescando dovresti andare via ma la tua pazza per la pesca ti porta a non andare via rimane lì comunque tutto il giorno mettendo piombi molto più importanti però diciamo che secondo me quella già non è più pesca in light è già un quasi un bolentino a un amo allora questa è la prima canna che vi faccio vedere e poi adesso in questo caso io ho montato un mirabel di shimano un 5000 col pommello tutti i mulinelli di shimano oggi 5000 hanno il pomellino e nella pesca light quando vai a coprare dei pesci importanti il pommellino è una cosa molto interessante ovviamente io in questo caso ho messo un mulinello di di fascia importante ma lo fa intorno ai 150 euro però potete tranquillamente utilizzare anche i mulinelli che costano molto meno è vero che andando a pescare pesci importanti se voi ho comprato un mulinello molto economico lo rovinerete abbastanza in fretta quindi io vi consiglio sempre quando fate un acquisto di comprarvi un prodotto di qualità che vi duri nel tempo anche perché non c'è niente di peggio che perdere pesci perché l'attrezzatura non è adeguata è una cosa che io personalmente non concepisco ormai riesco andare a pesca pochissimo perché davide ormai mi tiene legato con i suoi video tutti i giorni quindi a pesca ci vado pochissimo quando vado a pesca e prendo e ho la possibilità di agganciare dei pesci ma lo voglio giocare e perderlo perché magari ho un mulinello sottodimensionato oppure economico che non funziona bene per me proprio la morte dice così non ce l'ha fatto però prima non è che non andava a pesca perché faceva i video con me non andava a pesca perché si guardava i miei video che secondo me è ancora peggio hai ragione che tu hai sempre ragione tu allora andiamo a vedere invece in questo altro caso magari questa è una canna che abbiamo già visto in tanti video questa è una talaxa 7003 questa è una delle canne di tubertini che funziona per tutto funziona per il volentino perfetta pesca col vivo e la utilizziamo anche in in light in questo caso ho messo una 270 si può utilizzare anche la 240 ma io non amo le canne le canne così corte e anche in questa versione si può prendere anche la tre metri però secondo me la 270 è un ottimo compromesso per tutti in questo caso ho messo un altro tipo di mulinello e un tempest 4.500 di ticca non fatevi ingannare dal 4.500 perché il 4.500 di ticca è molto più grande potente del 4.000 barra 5.000 shimano questo è un mulinello che noi utilizziamo anche per pesche verticali e per pesche importanti ha tantissima frizione quindi questo è un mulinello veramente tosto se prendiamo un pesce molto importante con questo mulinello qua riusciamo a gestirlo quindi l'attrezzatura nel light se voi volete andare a cercare pesci importanti dovete prendere un attrezzato di questo genere e anche questo mulinello ha un costo intorno ai 150 euro quindi diciamo che non sono cifre impossibili poi se ci sono maniaci potete andare anche su mulinelli più importanti ma diciamo che già questo è quello che vi ho fatto vedere prima su mulinelli molto molto belli che danno un ottimo resa qualità prezzo avvertiamo anche chi ci sta seguendo che troverete nei nella descrizione del video un link che vi manda al negozio di fabrizio dove trovate tutti questi prodotti che vi sta elencando quindi potete andare a vedere i prezzi caratteristiche tutto quello che vi interessa è un link unico che abbiamo adesso accorpati per ciascuna tecnica di pesca proprio per semplificare la vita a chi magari vuole andare a cercare il prodottino giusto per fare un determinato tipo di pesca che magari non conosce troppo bene poi un altro consiglio che do magari a agli amici che vogliono iniziare ma che inizialmente magari non sono convinti di fare subito una spesa potete utilizzare magari se lo avete per provare all'inizio anche una canna da spinning con un range importante quindi una canna da spinning abbastanza pesante è anche quella può fare al caso vostro perché anche noi inizialmente anni addietro che non c'erano tutte queste attrezzature specifiche utilizzavamo delle canne da spinning con un range importante questo poi magari va andate a provate vi accorgete che una pesca molto divertente allora magari in un secondo momento vi vi comprate un'attrezzatura molto più specifica e vedrete che questa pesca qua sicuramente dà delle grandi soddisfazioni io personalmente quando posso vado a fare questa pesca che è una pesca che poi oltretutto si può fare anche con le orate assolutamente tante volte abbiamo fatto vedere l'abbiamo fatta vedere col piombo appoggiato ma l'orata gli piace molto l'esca che fluta in corrente quindi come vedete questa pesca non ha limiti né di grandezza né di qualità di pesce li possiamo praticamente prendere tutti dovete solo stare attenti ripeto al alle condizioni meteo le condizioni meteo non vuol dire che se il mare piatto voi riuscite a pescare c'è capitato tantissime volte di fare 20 30 40 miglia per arrivare una secca e mezza al mare mare piatto se quelle giornate perfette fantastiche appena siamo arrivati lì ci siamo accorti che c'era una corrente di un fiume in piena e questa pesca non siamo riusciti a farla oppure al contrario siamo arrivati in posti con mare incredibile super agitato magari abbiamo calato le nostre esche non c'era un filo di corrente quindi non fatevi fregare dal mare mosso mare piatto è proprio una questione di corrente purtroppo dobbiamo stare in un range di corrente media e questo è l'unica limite di questa pesca secondo me meravigliosa cosa dici davide assolutamente assolutamente d'accordo come ti ho detto io magari tante volte l'ho fatta anche quando veramente le condizioni lo permettono questo vuol dire vento bassissimo quasi una brezza che ti permette di spostarti con la barca però quelle sono situazioni particolari dove non ci sono strutture sul fondo dove magari non stai pescando proprio sopra una secca in tutti gli altri casi sono assolutamente d'accordo con te l'ancora ti aiuta tantissimo quindi ci si ancora si usa un rampino e dopodiché si va a pescare volevo aggiungere ancora che questo tipo di pesca si può fare tante profondità diverse tu hai parlato di limiti massimi ma io aggiungerei che si può partire già dai 10 metri di profondità anche con barche relativamente piccole e vicino costa magari si usa un attrezzatura un po più leggera se non ci sono proprio pesci enormi però ci si diverte comunque e comunque un tipo di pesca molto molto divertente in questo periodo si può fare anche questa pesca per prendere le lampughe proprio completamente superficie pescando nei primi dieci metri io personalmente amo la pesca a fondo è un mio limite però è vero che la pesca in corrente light si può fare veramente da zero ad esempio il light a quando panamite secondo me è una cosa bellissima mi ricordo che mi ero comprato di torna canna una brenda ed era lunga sei metri per le palamite proprio perché per utilizzare fili sottilissimi era obbligato avere una canna molto lunga per riuscire a gestire bene il pesce e tra l'altro anche per arrivare a mettere l'esca un po più lontano dalla barca anche perché proprio nelle giornate in cui non c'era vento non c'era corrente si usava la canna con l'innesco con la sarda intera con l'amo messo dentro sempre con il dacro però bisognava usare appunto una canna lunga ti dava molte più possibilità sia anche di lancio e tutto il resto un consiglio sulla ferrata del pesce mi stava sfuggendo ma questa è una cosa molto particolare quando noi riusciamo a mettere la nostra esca in pesca la cosa importante nella correntina non è un spesso correntini non è una una pesca rapida cioè far scendere un'esca quelle profondità che siano 40 50 60 metri ci vuole del tempo quindi noi le faccio la facciamo scendere frizione aperta archetto aperto quando arriviamo nel punto nel punto a noi che non interessa chiudiamo l'archetto ma ricordatevi sempre di tenere la frizione molto aperta se avete la canna in mano e un conto se voi mettete la canna nel portacanne perché qualche volta peschiamo anche con due tre canne ricordatevi di tenere aperta la frizione perché come vi ho detto prima non sapete mai chi arriva dall'altra parte se vi arriva un pesce importante un tonno una ricciola ma anche un dentice da 10 kg le canne che vi ho fatto vedere a frizione chiusa esplodono quindi ricordatevi di tenere aperta la frizione in modo che innanzitutto non vi rompa l'attrezzatura ma che lui possa mangiare senza problemi ingoiare e partire ok ricordatevi sempre importantissimo perché nella foga di una partenza perché vi posso garantire che la la partenza della della correntina alla frizione parte ed è veramente un divertimento pari a quella del tonno senti proprio la frizione che che parte ricordatevi sempre che se avete la frizione chiusa dovete ferra dovete ferrare con la mano sulla bobina in modo tale da dare il colpo ferrare il pesce e poi togliendo la mano lui può ripartire una volta che voi capite con chi state combattendo allora potete decidere se chiudere o lasciare la frizione aperta quello che io ricordo sulla mia pelle ma anche con tutti i ragazzi che ho portato è che l'emozione della partenza gioca brutti scherzi spesso e volentieri tutti ferrano senza bloccare la frizione ovviamente disastro perché innanzitutto non ferri quindi il pesce non viene punto e spesso e volentieri sputa l'esca oppure ancora peggio tendi a fare una parrucca quindi ricordatevi frizione aperta mano sulla bobina ferrare quando sei sicuro della ferrata puoi togliere la mano e lui riparte se è una tanuta se un paraghetto se un ventice piccolo della giocata se un pesce grosso andate piano piano aggiustivi la frizione in base al filo che avete al terminale che avete in base al 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 vostro al pesce che state combattendo questa è una cosa importante quindi tenete la luce della testa sempre accesa perché purtroppo in queste pesche qui spesso e volentieri la luce si spegne come nel tonno noi lo diciamo sempre quando parte il tonno tutti sanno cosa fare parte la frizione e la gente si dimentica quello che deve fare c'è chi guarda la canna c'è chi la vuol prendere ognuno ha dei compiti lo stesso quando peschi in corrente quando parte devi ricordarti mano chiudi ferra e poi capisci chi c'hai contro e da lì devi adattarti questo lo capirete sulla vostra pelle perché sicuro che ne sbagliate ne sbaglierete tanti come ho fatto io e come hanno fatto tanti altri amici però è anche il divertente di questa pesca assolutamente ragazzi grazie ancora per averci seguito anche in questo video sul canale ne trovate tanti altri come questo ovviamente grazie mille a fabrizio e ci vediamo martedì prossimo ciao grazie a te ciao a tutti